buongiorno ecco il video definitivo car tablet dedicato porsche macan lavorazione eseguita luci ambiente anteriori sportelli e cruscotto luce ambiente posteriori car tablet quattro telecamere 3d anteriore posteriore e specchietti retrovisori in più scolumento vetri e andiamo nel dettaglio del car tablet abbiamo recuperato tutte le funzioni della macchina e adesso siamo su youtube quindi Ok, ok Passiamo alla gestione Quattro delle camere 3D Vediamo anche l'equalizzatore DSP E adesso vi facciamo vedere che poi le quattro delle camere possiamo capovolgere l'immagine Possiamo un pochino personalizzarle addirittura dal radar Come vedete si possono impostare le immagini E addirittura vi capovolge l'immagine e vi fa vedere a 360 gradi Abbiamo installato anche la dashcam anteriore Una dashcam posteriore Adesso abbiamo fatto un'altra personalizzazione dal tablet per le 3 camere Ci avviciniamo a degli ostacoli Sensori di parcheggio attivati E in questo caso abbiamo il radar con le linee guida Come vedete abbiamo una macchina di fianco Siamo pronti a commercializzare questo prodotto Di media costa 7,99 comprese installazione Solo le quattro telecamere con tutto l'impianto Telecamere anteriore e posteriore Specchietti retrovisivi Destra e sinistra Vi ringrazio e buon fine settimana a tutti